...spinato, questi cancelli chiusi, l'atmosfera è scura, qui non ci sono i rossi, non ci sono i gialli, non ci sono i cedi, diciamo, colorati, accesi delle altre rappresentazioni. Avvate, ovviamente, sono notamente i paesi dell'ex blocco sovietico, ovviamente, perché mi siete sulla sua pelle, quello che ha vissuto, quello che è stato. Quindi, le volte, le difficoltà di questi popoli. Ma potrebbe essere in qualsiasi città, ad esempio, parlando, non so, di Rwanda, in qualsiasi, come abbiamo, tamte tanti, paesi di guerra, l'Iraq, l'Afghanistan, in qualsiasi paese, il quadro, è una via con cui si esce. Vladimir, anche, ci sottolinea sempre che la via con cui si esce, per lui, è sempre una via positiva. Quindi, i problemi, anche qui, c'è qualcosa di positivo, riusciremo a uscire, c'è una speranza nel futuro. La via d'ingresso è qui, sta in questa struttura dell'anticarro, perché questi pali anticarro, posti al centro della strada, o in legno, al suddipende, che hanno sempre questa direzione. Quindi, questo primo paro ci collega a queste tre barre che trattengono il filo spinato. Secondo grazie, poi, queste tre barre che trattengono il filo spinato portano lo sguardo a scendere attraverso questo filo, che quasi è a pezzoloni, sopra la porta, verso questo cancello. Questo cancello che è chiuso. Direi chiuso in maniera erometica, perché con un bel lucchetto e con un bel palo davanti. chiuso. E questa è la direzione che la chiusura del cancello porta nello spettatore, risparmordato. L'occhio poi torna all'interno della rappresentazione e ci riporta qui. Ci riporta qui in una strada che si porta verso un orizzonte polveroso, dove c'è stata la rivolta, ma è un orizzonte illuminato, un orizzonte che comunque, dietro questa polvere, dietro questa polvere appunto del combattimento, ha comunque una luce. È una via di uscita, è la possibilità di uscita che lo spettatore, ma comunque l'uomo che in qualche modo vede questo quadro, il popolo che in qualche modo si rappresenta in questo quadro, ha di uscita. Un'altra cosa che si ripete frequentemente nell'opera è il numero tre. Tre volte vengono ripetuti degli elementi che per l'autore sono importanti. Grazie. 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 Grazie.